Parità e rete inviolate fra Verona e Roma. Vediamo alcune azioni, una per parte. La partita ha visto una Roma subito piuttosto aggressiva per mettere le cose a posto rispetto al tradizionale ritmo più blando, sorgnone, ma molto pericoloso del Verona. Al ventisesimo del primo tempo Di Bartolomei ha colto un palo, poi il Verona è venuto fuori con progressione e la Roma allora ha attuato la tattica che usa da un po' di tempo a questa parte in trasferta, cioè una difesa accorta portando a casa un utile punto. Abbiamo visto, stiamo vedendo un'azione per parte e il risultato è stato salomonico anche quello 0 a 0.